salve amiche e amici oggi vi porto novità interessanti per quanto riguarda l'air show 2024 in cina questa manifestazione avrà appunto lo scopo di mostrare le nuove tecnologie militari e civili in in cina e già sono arrivati alcuni ospiti come i su coi 57 che vediamo in questa foto sono arrivati un paio uno in volo l'altro in trasportato via aereo parlerò di questo a larga maggioranza nel video non solo degli aerei russi ma anche delle tecnologie stealth cinesi in quanto ci sono foto e video che arrivano già dei j20 del c35 del j10 insomma tanta roba è un'ottima occasione piuttosto ghiotta per me che tratto questi argomenti infatti la manifestazione che inizierà l'11 dove stava avevo preso anche il sito inserà l'11 e ci saranno sicuramente voli di dimostrazione quindi per questo la russia ha mandato due aerei suppongo uno per la mostra statica e l'altro per la display acrobatica poi vi porterò anche alcuni aggiornamenti dell'ucraina notizie e dichiarazioni che riguardano sempre il conflitto e altre notizie correlate quindi come sempre mettetevi comodi prima di iniziare se non l'avete ancora fatto mettete in pausa il video e iscrivetevi al canale mi raccomando lasciate un mi piace sono due gesti gratuiti però che servono tantissimo per per aiutare a crescere il canale quindi ora prima di iniziare vi chiedo aiuto allora nel senso sapete benissimo che non seguo i canali italiani pochissimo la televisione quindi non sono per niente informato su quelli che sono i personaggi caratteristici della nostra televisione ed è di youtube io tendenzialmente tendo a seguire i canali internazionali perché mi servono appunto per portarvi notizie non posso basarmi tolta una manciata di canali youtube di persone che stimo che si contano sulle dita di una mano qui in italia cerco di evitare però ieri facendo una ricerca per il video di oggi sono incappato in questo strano fenomeno non fraintendetemi nel senso strano fenomeno del web in cui da quello che ho capito c'è questo italiano di che non conoscevo non so chi sia che chiede asilo in russia ora se un italiano arriva a fare un gesto del genere significa che ha qualche problema in italia non lo so sentiamo cosa dice se ci sono sanzioni contro di me al parlamento europeo potrebbe essere un problema per viaggiare perché sapete per il mio lavoro di corrispondente di guerra sono stato in libano in siria in venezuela viaggio molto quindi se l'unione europea mi darà un diritto di viaggio potrebbe essere un grosso problema per me vorrei quindi chiedere aiuto alle autorità russe per il processo di cittadinanza russa perché in questo momento c'è una nuova guerra fredda e solo in russia può esserci un'isola dove i giornalisti dicono la verità i giornalisti che vogliono lavorare liberamente possono vivere e lavorare senza problemi vabbè a questo punto poi non so chi è dall'altra parte della russia e dicono non ti preoccupare andrea che ti troveremo un posto e ti daremo un permesso di soggiorno ora io non credo che sia l'unione europea a impedire qualcosa a questo andrea però mi ha fatto un po mi ha lasciato molto perplesso una dichiarazione per cui i giornalisti in russia hanno la libertà di parola in russia la libertà di parola non esiste voglio dire affermare una cosa del genere quando quando lui si dichiara corrispondente di guerra è piuttosto vergognoso perché i giornalisti in russia sono finiti in prigione altri sono stati assassinati e insomma è veramente poco rispettoso per chi fa il mestiere una nostra stessa reporter della rai è stata è finita indagata in russia solo per aver documentato qualcosa in russia nella regione del kursk quindi non penso che sia bello dire una cosa del genere almeno questa è la mia la mia idea però ecco non giudico lui non giudico nessuno e se vuole andare via dall'italia perché pensa che la russia sia un paese migliore nessuno penso glielo impedisca non credo che ci sia nessuno che possa impedirglielo e come e torniamo con steven seagal e insomma i commenti non sono tanto gentili però non so chi sia questa persona e gli auguro davvero buona fortuna però non condivido le sue affermazioni onestamente comunque parliamo invece delle notizie di oggi allora quello che sta già circolando in rete sono alcune alcuni video alcune foto che hanno fatto i cosiddetti spotters presso la base di zunghai in cina dove si svolgerà l'air show gli spotters sono i fotografi che in genere si mettono sulle piste vicino le piste non sulle piste che vicino alle piste o nei paraggi o che hanno le autorizzazioni in questo caso hanno le autorizzazioni per fare queste foto allora intanto ci mostrano per esempio questo video di cui molti stanno già commentando ne approfitto per parlarne questo è il sukoi 57 russo ok che ci mostra alcuni dettagli piuttosto interessanti di questo aeroplano adesso andiamo a commentarli allora per definizione il secondo la propaganda russa questo aereo è il caccia di quinta generazione per la russia ok io sinceramente sono poco d'accordo sulla classificazione in generazioni degli aeroplani generazione per secondo la definizione vuol dire tre cose cioè i supersonicità multiruolo stealth ok quanto più un aereo ha queste vocazioni tanto più è avanzato secondo un modello generazionale quindi immaginiamo gli aerei di quinta generazione come per esempio euro fighter anche se loro fighter è qualcosina di più f16 f18 f15 sono tutti aerei che hanno capacità multiruolo supersonici però non sono propriamente stealth almeno non nascono con quella vocazione come lo è per esempio un f22 che è questo o un f35 questi aerei per esempio sono considerati un po più di quinta generazione anche se in realtà non sono proprio freschissimi almeno se parliamo delle f22 molto di più le f35 è più recente sicuramente quindi abbiamo tutti e tre gli elementi multiruolo supersonico stealth quindi ok quindi sono più dell'idea di script di esprimere come recente ultima generazione è più preciso perché poi è un po difficile definire le cose se si va indietro con alcuni aerei però in generale ecco quando guardiamo un su coi 27 vediamo che qualcosa non torna perché rispetto alle controparti americane vediamo che è molto grossolano nella sua nei suoi dettagli tutti questi bulloni queste viti questi rivetti a vista vedete tutte queste brutte rifiniture i tubi di pitot esterni che devono esserlo per forza purtroppo queste sono prese dinamiche prese statiche come vedete poi per esempio questi dettagli ok questi dettagli non esistono su aerei come f35 perché vedete tutto è rigorosamente nascosto annegato in vernici particolari per le f35 si parla in realtà di una vera e propria pelle più una vernice la vernice è presente sull f22 radar assorbente il f35 indossa un vestito si dice nel senso a una pelle radar assorbente per cui questo serve anche a nascondere tutte le imperfezioni che si vedono in bella vista sul su coi 57 ora detto un attimino le cose in chiaro da quello che ho visto che posso interpretare io sulla base della mia esperienza i video che arrivano da questo air show mostrano due su 57 arrivati uno è arrivato in volo infatti vi ho mostrato il video all'inizio e l'altro è stato ecco questo qui questo è arrivato in volo e l'altro invece è arrivato con un trasporto un antonov 124 i motivi per cui hanno fatto questa scelta è che secondo me sono due al primo ne hanno pochissimi in realtà la produzione di questo aereo è ferma non se ne stanno producendo più perché non ci sono i componenti per farli preferiscono in realtà continuare a realizzare su coi 30 35 piuttosto le cose più raffinate tecnologicamente parlando per realizzare questo aereo arrivavano dall'europa e oggi l'europa non è tanto contenta di fornire queste componenti alla russia ci sono state le restrizioni quindi ne hanno pochi dovevano realizzarne una settantina ma entro il 2027 ma la produzione ferma e al momento se ne conteranno una ventina giù di lì che fra l'altro non hanno neanche partecipato veramente al conflitto in ucraina se non in maniera molto marginale e nonostante questo ne hanno persi un paio ora sono stati colpiti dai droni di questo ne ho parlato in un video tempo fa ora non voglio divagare però ecco i problemi su questo aereo non solo solo le componenti ma è fatto che comunque è un aereo che rispetto a un a un su coi 35 non ha molto in più nel senso fra l'altro è stato un banco di prova a livello di avioniche e motorizzazioni per poterle introdurre retroattivamente sui suoi 30 e suoi 35 infatti le versioni precedenti hanno beneficiato di più delle innovazioni tecnologiche dello sviluppo di questo aereo rispetto a questo aereo stesso che la cui produzione è ferma però comunque c'è poi un discorso di cosiddetta costi benefici intanto ecco qui vediamo su questo aereo che quello che dovrebbe essere quello che è atterrato che è arrivato in volo e che nei prossimi giorni a partire dall 11 quando inizierà la manifestazione scommetto quello che volete che lo vedremo in volo fare le sue evoluzioni particolari quelle che fanno dire o ai filo russi che i russi hanno ieri del migliore del mondo questo aereo ha la spinta vettoriale lo vediamo perché monta appunto i motori con gli ugelli orientabili che qui sono in una posizione rilassata non essendoci l'idraulica a motore spento ma oltre a questo voglio dire sulle altre versioni di questo aereo questo motore vettoriale non è stato montato per motivi ovvi nel senso la spinta vettoriale pesa sono pezzi in più il motore più complesso costa molto di più soprattutto poi oltre al fare gli air show le acrobazie in volo lento non ha nessuna utilità in combattimento non serve a niente voglio dire in combattimento moderno serve velocità energia non devi fare i giri gori e il cobra perché ti fermi in aria è un aereo fermo in aria è più facile da colpire quello è il motivo per cui non serve però è una soluzione sperimentale che si è vista su alcuni prototipi e sicuramente questo è uno di quei prototipi che ha fatto le evoluzioni in futuro in passato andando avanti ci mostra per esempio vedete questo spazio fra i pannelli questa è la stiva di carico a il sucoi 57 a 4 pannelli sotto il ventre che trasporta dove vengono allestite il carico che può essere aria terra o aria aria ora ci sono vantaggi e svantaggi per una soluzione del genere il motivo per cui gli aerei di ultima generazione utilizzano le stive ventrali delle baie interne è fondamentalmente perché per due motivi il primo è perché tutto quello che è trasportato esternamente fa un eco di ritorno con le onde elettromagnetiche dei radar quindi ti rende più visibile secondo è che mettendolo internamente migliora l'efficienza aerodinamica dell'aeroplano quindi offre meno resistenza all'aria e l'aereo ha migliori prestazioni in termini di autonomia soprattutto ma anche velocità in generale accelerazione autonomia insomma è più filante ok i contro però ci sono nel senso realizzare una stiva ventrale era una soluzione che si adottava sui bombardieri che non avevano grosse pretese di prestazioni mentre un caccia è sempre un compromesso fra accelerazione manovrabilità leggerezza quindi realizzare una stiva ventrale ha un costo da un punto di vista ingegneristico nel senso pesa di più è complesso e molto più complesso quindi aumenta il costo dell'aeroplano e poi c'è anche un altro piccolo dettaglio non poco importante per un aereo del genere questo vale anche per l'f-22 e l'f-35 americano se lo consideriamo in un'ottica offensiva aria aria è vero che c'è un vantaggio nella cosiddetta stealthness ma quando il pilota preme il grilletto di rilascio dell'arma se parliamo per esempio di un missile aria aria il rilascio dell'arma avviene in più fasi la prima fase è l'apertura del pannello la seconda è il rilascio dell'arma che deve cadere letteralmente viene sganciata da dei perni o dei bulloni dedicati quindi la caduta dell'arma deve allontanarsi dall'aeroplano per non colliderlo in una fase successiva poi l'arma si accende il missile si accende e parte quindi necessita di un certo ritardo per fare questo mentre su aerei per esempio come i piloni esterni dell'eurofighter o l'f-16 per esempio l'f-16 ha solo piloni di questo tipo sono delle rotaie che funzionano né più nemmeno come avrete presente il dardo che parte dalla balestra beh funzionano allo stesso modo quando il pilota preme il grilletto il missile parte dalla rotaia immediatamente quindi a zero ritardo il che può sembrare un piccolo dettaglio ma è un vantaggio in termini di aria aria oltre a questo allora mi sono fermato su questo dettaglio per mostrarvi proprio appunto la cura dei dettagli vedete qui c'è il perno attorno al quale ruota il pannello che ha questo spazio c'è uno spazio fra i due pannelli e questo insomma non è proprio il massimo in termini di riduzione della rcs questi simboli di radiazioni stanno a indicare presumibilmente che nella cono di coda dell'aeroplano è presente un sono presenti degli dei disturbatori elettronici che emettono radiazioni quindi sicuramente è un bel aereo ma ci sono dei ma ora metto un po le mani avanti da questo punto di vista perché poverino solo per questo piccolo video che sta circolando con questa vernice e questi questi queste viti lo stanno poverino lo stanno distruggendo sul web stanno dicendo di tutti i colori che insomma la steltness dei russi e come e come i russi grezzi inesistente ora sì nel senso è vero però fino a un certo punto perché questo aereo che vediamo probabilmente è una delle prime serie che serve appunto per fare ieri show per fare le acrobazie non gliene importa niente di utilizzarlo operativamente quindi è solo un aereo per fare bella figura ieri show non ha nessuna pretesa stelt tanto più che nelle versioni successive si vedono alcuni su 57 che sono stati migliorati nella cura dei dettagli questi pannelli che si vedono frontalmente che hanno delle rifiniture grossolane dei rivetti a vista devono essere di facile accesso per i meccanici quindi è chiaro che non c'è particolare attenzione per nasconderli però in generale sicuramente questo per esempio il vano carrello l'aereo si presenta piuttosto grossolano grezzo nelle sue finiture non c'è molto altro da dire insomma molti specialisti analisti canali youtube internazionali che seguo che hanno studiato a fondo i video le fotografie di questo aereo lo descrivono come un aereo che ha un'intenzione il primo tentativo ovvero da parte della russia di un progetto che abbia una ridotta osservabilità radar ma si parla appunto di una riduzione rispetto al modello precedente il su coi 27 che era molto ben visibile quindi sì sicuramente a una riduzione dell'rcs rispetto al su coi 27 ma non stiamo parlando di un aereo stealth completamente sarà è visibile quanto è visibile un f16 un f18 insomma un aereo di quinta generazione giù di lì ora passando avanti all'air show stanno arrivando anche altri aerei fra cui famoso e molto dibattuto j35 questo aereo ditemi voi se non assomiglia al f35 poi fra l'altro si chiama pure uguale voglio dire è vero che dovete copiare ragazzi però almeno il nome cambiatelo dai cioè j35 a f35 insomma è un po come dire che la cina fa adesso farà ferrari anziché chiamarla ferrari la chiama fellali ho fatto la battuta dai terribile ok allora vedete però una cosa che voglio mostrarvi è come questo aereo per esempio è stato pensato per essere imbarcato quindi sarà sfruttato dalle portaerei realizzate in cina ed è un po l'equivalente secondo loro dell f35 b quindi senza però la capacità di atterraggio verticale sarà un po come l'equivalente di un f18 americano ok quindi per atterraggi e decolli normali da portaerei un po come lo fa il sukhoi 33 questo aereo però già vi faccio vedere come i cinesi sono un po più avanti nelle rifiniture nella realizzazione di un aereo stealth infatti come vedete non non si vedono rivetti pannelli rifiniture grossolane già c'è molta più pulizia nelle forme ok e questo non è una cosa da poco perché insomma ci fa vedere che l'aereo è già messo bene da questo punto di vista a un'intenzione molto più precisa una tecnologia molto più precisa di riduzione della propria firma radar soprattutto soprattutto oltre all'imitazione delle forme fra l'altro durante lo sviluppo delle 35 cinesi misero le mani su tanti progetti segreti americani ci fu una fuga di imponente di dati e per questo che oggi i cinesi hanno questa tecnologia ma vediamo anche un'altra cosa molto interessante questa bombatura per esempio che si vede all'ingresso della presa d'aria questa l'hanno copiata pari pari dall f 35 questa bombatura qui questa qui serve perché con l'aumentare della velocità la compressione dell'aria all'inter in ingresso nella presa d'aria funge da riflettente per le onde elettromagnetiche quindi aumenta la radar cross section questa bombatura serve appunto a ridurre a rendere più efficiente l'ingresso dell'aria e anche ridurre la firma radar quindi questa cosa non si vede su suico e su suico i 35 per esempio non esiste ho preso la immagine sbagliata dove sta vedete non c'è queste grandi prese d'aria del suico i 57 di sicuro non lo aiutano nella sezione frontale mentre in cina già sono consapevoli di questo copiando palesemente dalle f 35 ok ora è chiaro che per voi a casa che mi seguite magari c'è qualcuno di voi che è anche più esperto di me su queste cose ne sa la salunga di aviazione e un po riconosce i limiti della tecnologia cinese nel copiare le f 35 per me queste cose un po le mastico da tanti anni è un po come vedere tipo paragonare le f 35 hanno a bugatti ciron non so se chiami così alla sua imitazione notate le differenze io sì c'è nel senso non me ne intendo di automobili proprio sono l'ultima persona a parlare però ecco vedere il j 35 cinese e poi il vero f 35 un po mi fa un po mi fa lo stesso effetto che vedere la ciron è questa è questa quindi non vogliatemene in ogni caso è interessante il discorso perché vediamo in questo air show vediamo la tecnologia stealth cinese ok dove sono arrivati e sicuramente stanno a un buon punto rispetto alla russia quantomeno non dico che sono a livello americano perché non è vero e non sono neanche a livello europeo se per questo ma quantomeno sono un passo avanti rispetto alla russia non ci piove fra l'altro sono arrivati anche altri aerei come aj 10 che sembra la copia sputata dell'euro fighter almeno nella forma ma realtà è diverso non c'è paragone l'euro fighter è un bel po più avanti come come tecnologia questo fra l'altro è un monomotore è un aereo interessante devo essere onesto perché si presenta come un multiruolo e fra l'altro lo hanno scelto anche per la loro pattuglia acrobatica il che è significativo cioè vuol dire che è un aereo affidabile che ha buone prestazioni di manovrabilità e versatile quindi soprattutto è un prodotto nazionale che piuttosto che continuare a usare la loro versione del suco 27 che è il j11 fra l'altro hanno sviluppato anche proprio una versione che si chiama j12 se non sbaglio dovrei averlo preso eccolo j16 questa versione del suco 27 prodotta in cina è un po la risposta delle f 18 e per la guerra elettronica americana infatti lo vediamo con delle tip alari che non hanno più la rotaia per il lancio di missili del del nono e decimo missile a corto raggio ma è equipaggiato nativamente con dei pod per la guerra elettronica queste sono questi sono disturbatori elettronici poi lo vediamo anche la coda dove ha un motore tradizionale e sembra essere sviluppato sul progetto del suco i 33 fondamentalmente perché questo radome molto lungo in coda si poi va bene le cose diciamo le altre novità che sono arrivate ma nei prossimi giorni ne parlerò in maniera più approfondita mano mano che arriveranno anche i video dei voli sicuramente questo un altro aereo molto interessante che gli analisti americani e internazionali tengono d'occhio e si parla del j20 questo un po la risposta secondo la cina alle f 22 o le f 35 si parla di un grosso aereo il j20 è veramente massiccio sempre ok e questo è ora anche qui vediamo una bombatura per le prese d'aria una importante ricerca alla riduzione delle rcs non solo nella geometria della roblano che ha una veramente sottile nella sezione frontale si ce l'ha come geometrie costruttive è molto sviluppato per essere stealth poi vediamo c'è una ricerca nei particolari non vediamo pannelli bulloneria rivetti a vista come sul suco i 57 russo c'è un abisso nella qualità di costruzione però comunque a parte questo vediamo motori tradizionali non c'è nessuna intenzione di riduzione della propria firma infrarossa cosa che invece c'è nel f 22 insomma f 22 è un'altra storia comunque e j il j 10 scusate già i 20 sembra essere interessante come aeroplano però queste ali canard frontalmente non lo favoriscono però ecco sicuramente è un aereo imponente con una riduzione della propria firma radar poi ci sarà anche questo è il suco i 57 in mostra statica che è stato smontato è arrivato smontato e adesso lo stanno allestendo mentre come dicevo l'altro che è arrivato in volo farà la sua display acrobatica il cobra cuba chef tutte le i rigori fermo a mezz'aria è inutile ricordare che queste cose sono molto belle coreograficamente ma da un punto di vista militare servono relativamente non sono di certo io a dirlo ma i stessi piloti russi che le hanno inventate fra l'altro colgo l'occasione proprio per ribadire il concetto grazie a un pilota ucraino pilota di mig 29 che in questo video ci mostra proprio le capacità del mig 29 in questo caso lancia 8 gb 39 in questo lancio prima le lancia 4 dalla sinistra e poi 4 dalla destra e poi si dilegua ora un aereo del genere anche se degli anni 80 è molto utile perché è piccolo ha una naturale riduzione della propria firma radar e poi essendo piccolo e leggero ha un ottimo rapporto di spinta peso per cui nel momento in cui fa la sua missione lui cosa fa può permettersi di accelerare subito raggiungere imponenti valori energetici di energia proprio cinetica che trasmette alle armi quindi quando lancia queste bombette che si aprono sono le classiche gb 39 portate appunto in rack da da 4 come in questo caso gli trasmette molta molta energia e quindi possono andare più lontano la stessa cosa vale per i missili aria aria quindi accelera prima raggiunge valori energetici poi quando lancia le armi si gira e se ne va fine non è che devi stare lì a fare il cretino come in un videogioco a manovrare a 200 chilometri orari la cosa più utile da fare in una situazione del genere girare attacchi accelerare prima e andarsene quindi da questo punto di vista il mig 29 degli anni 80 fa meglio il lavoro di un eventuale su coi 57 cioè a che serve su 57 si fa vedere allo stesso modo è più lento da accelerare perché pesa 22 tonnellate e ciao cioè per quanto possa essere manovrabile se sei fermo a mezz'aria sarai anche bello ma sei altrettanto un bersaglio quindi vi porto alcuni aggiornamenti poi per quanto riguarda il il fronte anzi scusate chiudo un po il discorso sull'air show in cina perché sicuramente ci sarà la mostra statica in cui vedremo cose che possono essere studiate come droni e tecnologie missilistiche che vediamo in questa foto ecco la cina sta sviluppando cose che la russia attualmente si sogna possiamo dirlo non ci piove cioè stanno andando avanti qui vediamo per esempio una soluzione presa pari pari dall f22 con questi cunei e spinta vettoriale sì quindi in cina sanno benissimo che le cose vanno fatte in un certo modo e non puoi prendere in giro i critici più di tanto comunque andiamo avanti per quanto riguarda la situazione al fronte non ci sono grossi cambiamenti nella zona di kursk altri cambiamenti in tutto il settore est non ci sono stati salvo una piccolo incremento della presenza russa vicino a senkove sulla situazione a chasiviar non ci sono anche qui nessun cambiamento e non posso segnalare neanche più di tanto combattimenti perché fondamentalmente la situazione lì è anche molto statica c'è solo stato un riportato truppe in contatto qui a sud mentre a toresk la situazione è sempre calda c'è stato riportato già ieri il 3 un avanzamento delle forze ucraine nel villaggio poco più a nord est di toresk mentre come vedete tutte queste icone parlano di un efficace intervento dei droni ucraini sulle posizioni russe altrove però la situazione non è delle migliori infatti in direzione di pokrovsk e l'avanzata russa parla chiaro non direttamente verso pokrovsk ma a sud verso kurakove stanno guadagnando terreno ogni giorno questo era appunto l'uno il tre ieri l'altro ieri vedete tutte queste zone sono appena state occupate dai russi e giorno dopo giorno riescono a ottenere un vantaggio di metri centinaia di metri e chilometri anche questa per esempio è la loro avanzata nell'area di kurakove dal 31 ad oggi 1 2 3 4 vedete quindi suppongo a questo punto che cercheranno di aggirare kurakove per prendere alle spalle chiudere tutta la zona a tenaglia e aggirare così il laghetto di kurakove andiamo avanti altre notizie per quanto riguarda allora un l'arrivo del primo della ministra degli esteri nordcoreana in russia in cui è stata accolta da mister putler diciamo il meeting in sé non mi interessa però mi ha fatto morire da ridere lunas karsky questo utente che a quanto pare la frase ciccio kim si sta diffondendo e non so se è merito mio o c'è come si dice una convergenza di idee putin si abbassa ricevere la ministra degli esteri di ciccio kim quindi non sono il solo a chiamarlo così sempre per quanto riguarda il dittatore nordcoreano dal giappone oggi altra notizia di quelle che ti svegli bene infatti sono stati lanciati sette missili balistici dalla corea del nord verso il mare del giappone e sono finiti nel mare del giappone i giapponesi il ministro degli esteri giapponese insomma ha fatto la comunicazione e non l'hanno presa bene del resto provate a immaginare voi non lo so se domani mattina la grecia iniziasse a lanciare missili balistici che poi finiscono nel marionio come la vedete più o meno è la stessa cosa altre notizie di corollario l'ex vice governatore della regione di tula e diciamo ha avuto un incidente in casa a seguito di un incendio chiamano così la polizia dice che ha spento male il camino questo può succedere voglio dire i governatori alla fine sono persone come tutti noi quindi mi raccomando fate molta attenzione a non inciampare fuori dalla finestra dalle scale o non finire come pinocchio notizia positiva per quanto riguarda taiwan che fornisce o sistemi hoc all'ucraina questo ottimo lavoro grazie taiwan lo stesso sicorsky ministro degli esteri polacco ha affermato che forniranno la polonia fornire ulteriori aiuti all'ucraina si pensa con supplementi al sistema d'arma patriot credo vedremo nei prossimi giorni diciamo che ha messo in agenda sicorsky di incontrare altri 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 paesi nato per fornire ulteriori aiuti alla potenza alla capacità di difesa aerea dello spazio aereo ucraino questo è il suo obiettivo ha detto anche dalla germania che posso dire io sarò la penso in un certo modo però secondo me ecco i russi davvero vedono molto male la ministra degli esteri tedesca e non la possono sopportare io credo che invece sia penso che sia una donna che sa il fatto suo è anche piuttosto affascinante devo essere onesto però oggi a parte questo e non diteglielo la germania ha dichiarato che verranno dati ulteriori 200 milioni di euro in aiuti umanitari all'ucraina il che è un ottima notizia soprattutto perché arriva l'inverno sono a corto di materiali di elettricità perché vengono continuamente colpite le loro infrastrutture insomma dobbiamo ricordare che sono un paese che sta subendo una guerra contro una superpotenza voglio dire è sempre l'ucraina che sta combattendo contro la russia che è tipo tre volte tanto in termini di capacità militare e produzione esercito e tutto quindi insomma è un'ottima notizia per concludere riporto un'altra notizia che riguarda la ragazza iraniana che ha protestato davanti all'università ieri l'altro ieri scusate allora allora la ragazza è caduta in coma oggi a mezzogiorno di riportare la notizia dopo essere stata trattata in un certo modo dalle guardie di sicurezza i professori e gli studenti dell'università protesteranno hanno protestato oggi quindi penso di portarvi foto e notizie domani spero anche se è difficile che escano dall'iran per poter stare contro la violenza delle guardie morali iraniane e le leggi contro le donne insomma queste a questo è successo sabato le guardie della polizia morale iraniano iraniana hanno affrontato questa ragazza dopo che si è messa a camminare in biancheria per strada durante lo scontro poi gli hanno strappato i vestiti l'hanno costretta a entrare in macchina e secondo i testimoni si è ferita ha inciampato ecco leggete fra le righe per quello che sto dicendo perché non posso usare termini espliciti su youtube però è inciampata contro la portiera dell'auto tanto da ferirsi gravemente alla testa e a quanto pare è finita in coma prima di arrivare in carcere la famiglia dopo essere stata informata si è recata all'università e ha chiesto informazioni su dove si trovasse la figlia ma ad oggi non si sa dove è detenuta quindi questa è la situazione sì purtroppo diciamo rispondo ad alcuni commenti che ho ricevuto in cui dicevano sì grande coraggio di questa ragazza però ci saranno gravissime conseguenze per lei e infatti ci sono state un altro commento in cui di un utente un caro amico diceva io sono stato in iran in alcuni casi le donne occupano anche importanti posizioni sociali però ecco non sono libere di viaggiare se non accompagnate sicuramente è una condizione particolare quelle delle donne in iran e ho già visto altri documentari altri video che non riguardano solo le donne ma anche la libertà di espressione e c'è un regime religioso alla fine dei fanatici religiosi al governo e queste cose vanno sempre male per la popolazione normale che ha diritto di vivere quindi signori per oggi è tutto fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima